ciao amici siamo l'endrigo da brescia ora siamo tutti e se state vedendo questo video basiti quanto vuoi ma siamo arrivati ai live sei contento vado vico questo mi preme ok è contento anche noi siamo molto contenti a parte tutto è stata molto molto dura molto più di quello che ci aspettavamo anche perché erano tutti forti molto bravi infatti vedrete che io varie volte dico tipo rip segno della croce insomma c'è dati per spacciati varie volte e noi condivideranno però a quanto pare per colpa di emma non è successo quindi ciao emma grazie ci manchi già forse manchiamo neanche a te non può rispondere adesso quindi chi taccia consente siamo felici di mancarti emma e niente in realtà siamo super contenti di avere ma come giudice a pelle direi che ci intendiamo e secondo noi in realtà abbiamo un sacco di cose in comune più di quanto magari si potrebbe immaginare così in modo superficiale non vediamo l'ora di rimetterci un po in discussione e far incontrare un po questi due mondi momento peggiore beh parte la prima parte diciamo audition e woodcamp ci siamo abbastanza goduti con incoscienza direi ci siamo divertiti un sacco e magari eravamo in meno in sbattimento di quanto si potrebbe pensare ci davamo per spacciati già e invece un visit hardcore forse è quello il momento più peggio un visit devastante paura vera paura vera poi arriva un momento in cui dici boh sono arrivato fino a qua forse si può fare sai che forse 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 e allora lì a me giravano le palle l'idea di uscire anche se dicevo che l'hanno già di miracolare siamo affezionati siamo affezionati niente comunque è stato peso sembrava un esame universitario quando sei lì che aspetti tutti assieme si è creato anche un bellissimo rapporto con gli altri concorrenti con gli altri compagni di squadra e infatti non avere Edo e Riva con noi a sto giro sarà colpo al cuore e gli mandiamo un bacino schiumoso però siamo super contenti anche di essere con Giamma e Vale a questa nuova parte di avventura noi siamo dei vecchi voi no giovanissimi questa cosa stanno dicendo loro nel loro video ci stanno massacrando esatto voi nel vostro video siamo in squadra con dei signori con quattro le carampane vabbè quindi niente direi un visit momento veramente hardcore spassoso io ti ho visto in sofferenza totale ho avuto i giudizi di Emma hai fatto una scelata Miss Italia no beh se io non ce l'ho avuto vedrete il momento Miss Italia l'ho fatto proprio così quando ti ho scelto tipo però era spontaneo tristemente spontaneo vuol dire che io quando non so cosa sto per fare ho messo Italia come in prima hai dei cedimenti emotivi ostanti beh che dire siamo contenti comunque che avete potuto già vedere un po' di noi e comunque avete visto due nostri pezzi avete visto una cover che facciamo spesso durante i concerti quindi siamo anche molto contenti di aver già fatto vedere un po' di quello che potreste trovare a un nostro live e a proposito di live vi invitiamo con un cuoricino con un cuoricino un po' deforme un po' chi sai fare il cuoricino sai fare il cuoricino bene? no ok con questo cuoricino stupendo vi invitiamo al nostro primo live al primo live di X-Factor ciao da Lendrigo è stato un po' di QTSS Grazie.